Prove antimessina per l'Avellino. Al partiene Lombardi, la squadra dei misteri Piero Braia ha sostenuto un test amichevole in famiglia contro la Primavera 3, allenata dal duo Biancolino-Iandolo. Il tecnico Maremmano, anche contro i Baby Lupi, ha optato per il modulo 4-2-3-1, che sembra offrire le giuste garanzie. Il match è terminato 7-0 con le reti di Riccardo Maniero, doppietta per lui, il cannoniere napoletano sempre più in fiducia dopo il gol messo a segno nella vittoria contro il Taranto di La Terza. Poi hanno tiembrato il cartellino in successione Antonio Di Gaudio, Sonni D'Angelo, Daniele Mignanelli, Antonio Messina e Alberto De Francesco. Non hanno preso parte la sgambata ai difensori centrali Luigi Silvestri e Gennaro Scognamiglio, assente anche il centrocampista Giuseppe Carriero. In ogni caso, il mister di Grosseto valuterà fino all'ultimo una loro eventuale convocazione per lo stretto, mentre saranno di nuova disposizione i rientranti dalla squalifica Alberto Dossena e Agostino Rizzo.